Sono Cristian Cappellari, titolare della Tita Motorsport. Ci occupiamo di carrozzeria, restauri automoto d'epoca e cerchiamo di dare un servizio di 360 gradi al cliente con servizio gomme, con tagliandi, meccanica leggera. Diciamo che ho iniziato quando sono nato, in quanto mio papà lavorava nello scantinato di casa. Dopo ho costruito il capoanone e per cui, bene o male, ci sono sempre stato dentro. Una volta diplomato sono entrato prima come operaio specializzato, poi come collaboratore, fino al 2008. In 2008 ho intrapreso la mia attività. Pian piano sono subentrato in quella di mio papà che ora è in pensione. Fin da piccolo la mia passione sono sempre stati motori. Sicuramente sono stato influenzato da mio papà, il mio maestro, perché da piccolino vedevo arrivare le macchine distrutte e per magia diventavano nuove. Era proprio una magia, io ero affascinato di questa trasformazione. Ho scelto di diventare maestro artigiano per vari motivi. Ho visto tramite la newsletter del Comunque Artigianato questa possibilità e l'ho accolta al volo. Penso che sia il raggiungimento, un traguardo che va a premiare ciò che ci ho messo in questo lavoro. La passione, il tempo, spero che sia anche l'inizio di una nuova prospettiva, di una nuova opportunità di poter trasmettere la mia passione, le mie conoscenze, a magari qualche giovane che non sa di preciso cosa fare. Magari gli si accende una lampadina e perlomeno dice perché no? Proviamo! Magari gli si accende una lampadina e perlomeno dice perché no?